Gassi da gioia, non più, però aveva 27 anni, sono contentissimo anche perché in un buon esperito, in un'altra strada, sono un po' di più grande, qui ti ho fatto ai studenti qua, io per gli stati più importanti e anche loro stanno lavorando in cui io perchè mi parlo l'inglese... Ricordo a tutti gli spettatori giochi qui su Facebook Stiamo ancora in attesa degli ospiti più attesi, Ricky Stognacci e Simone Aizzo. Stanno arrivando, stanno arrivando. Preparate i blocchetti per gli autografi. Preparate i cellulari per i vostri selfie. Preparate tutti i selfie stessi per fare i vostri autografi. Sta arrivando Ricky Stognacci, sta arrivando Simone Aizzo. Mi raccomando, non vi rilassate. E è arrivato il momento. Sto per schilare sul nostro del carpet, la giuria, ragazzi. Ah, questo non lo direte voi, non lo so. Sicuramente un medico giovane, un medico molto giovane. Però vediamo. Invece comunque iniziamo con la... Iniziamo perché mio padre mi ha spinto a provare. Non voleva che io faccia il girettore, ma voleva che io faccia il girettore, ma voleva che io faccia il girettore. Quindi grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Fa caldo, fa tanto tanto caldo, ma noi siamo sempre in attesa dei nostri micici super ospiti di questa sera. Io faccio il girettore, ma siamo in attesa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Izzo. No, no. Ma su. Buona Izzo. Ricci Tognazzi. Izzo e Tognazzi. Buona Izzo. Ma non siamo chiedere se siete in andata. I pochi. No, bravo. Non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Ma non so, non so, non so. Facciano tanti ragazze, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Ah, non so. Io ricordo ancora che il Social World Film Festival, che è qui giunto alla sesta edizione. Siamo tutti alla serata schicata, un momento sempre atteso.